ma resta amaramente escluso. Tutto più facile invece per il Borussia Mönchengladbach contro il Vittoria di Guimaraes. Il gol che vediamo, segnato da lontano da Bacalors, un giovane che è esordito quest'anno nel campionato tedesco, dà un vantaggio al Borussia che aveva già vinto 3-0 l'incontro d'andata, quindi ben poche relative le preoccupazioni, anche per il Parigi di Cascavel prima che il tempo si concluda. Poi ancora il vantaggio passa alla vittoria di Guimaraes con il gol che sta per realizzare, come vediamo adesso, ecco il diagonale a Demir, ma lo sfortunato Aitor, difensore della formazione portoghese, su cross dalla sinistra, mette in rete per il 2-2 che qualifica comunque il Borussia, già vincitore all'andata per 3-0.